Per la ricorrenza del novantesimo anniversario, a lei si inaugura un nuovo coloratissimo Stora, a firma di Martin Gixé, spostandosi da Corso Matteotti in via Manzoni, dall'altro capo di via Monte Napoleone. Dopo l'esperienza dello Shop Museum di Parigi del 2008 e l'allestimento alla Triennale Design Museum di Milano, Alberto Alessi affida al creativo catalano quello che sarà per molti anni il luogo del dialogo tra l'azienda Alessi e il suo pubblico. I 170 metri quadri dello spazio sono stati divisi nel progetto di Gixé in quattro distinte sezioni, il set, il museo, lo shop e la camera delle meraviglie, per presentare le novità, le curiosità e le collezioni più importanti, pezzi storici, i suggerimenti e molte altre idee che nasceranno nel variegato mondo della fabbrica dei sogni Alessi. Ciascuna delle sezioni è fortemente caratterizzata, secondo propri canoni, dagli elementi espositivi, dai diversi sistemi di illuminazione appositamente disegnati dallo stesso Gixé e prodotti da Danese, fino al disegno geometrico tracciato a terra. Il nuovo spazio Alessi si affaccia su una bella piazza privata, con prospettiva sul parco del Museo Pol di Pezzoli, con tutto il proprio ingresso e con tutto il lato sinistro, mentre tre ampie vetrine ad arco dialogano con i numerosi passanti di via Manzoni. I 170 metri quadri di superficie risultano così quasi completamente visibili dall'esterno, senza tuttavia svelare le diverse sezioni nelle quali è concepito il negozio.